Signor Puglione era veramente un gigante, come ha detto Gianluigi della sua epoca, un uomo che è stato, proprio come Cesare, contemporaneamente oratore generale, quindi grande condottiero ed è stato oratore, dicevo, storico, soprattutto grande storico e poeta. Noi sappiamo che scrisse poesie e lo sappiamo dai suoi amici poeti. Chi erano gli amici poeti di Asino Puglione? Tre tra i più importanti, forse i tre più importanti poeti latini, Catullo, Virgilio e Orazio, tutti e tre amici personali che hanno voluto dedicare opere ad Asino Puglione.